Franco Baresi a Pescara, tanto affetto, tanta amicizia con Pescara, con le donne bianca-azzurre in particolare, insomma è sempre bello andare in provincia. Sì, mi fa piacere presenziare stasera, poter incontrare tanti tifosi per festeggiare lo Scudetto e trovo sempre un grande entusiasmo, un grande affetto, mi fa molto piacere. Stasera ha approfittato anche per presentare il suo libro che è andato a ruba qui e che sta avendo un grande successo. Come si diventa cambione da bambino, da ragazzo con tanti sacrifici? Sì, ho voluto raccontare cosa c'è dietro a successo e raggiungendo tanti traguardi e quindi deve essere un messaggio di stimolo e di ispirazione verso i giovani. Lei oggi è a Pescara e ha ricordato prima il Pescara di Galeone, le sfide che lei giocò qui allo Stadio Adriatico indossando la maglia del Milan? Sì, ricordo, ricordo delle sfide sempre molto belle perché Pescara giocava sempre un bel calcio, con bei giocatori e ci creava anche tanti problemi. Quindi ricordo quella famosa 5-4, partita incredibile, però ci è andata bene. Diceva prima, Pescara merita probabilmente altri palcoscenici che la Serie C. Vabbè, ricordo quel calcio che faceva, quindi qui la gente piace il bel calcio, quindi spero che possa avere soddisfazioni in campionati maggiori. L'ultima battuta, il Milan di oggi è arrivato lo Scudetto, insomma adesso si vuole tornare a far bene nelle Coppe, in Coppa dei Campioni. Il Milan è cresciuto molto, abbiamo avuto questa grande soddisfazione e gioia di tornare a vincere lo Scudetto, adesso vogliamo far bene anche in Europa.